Trent'anni di carcere con l'aggravante dei futri motivi della minorata difesa. E' questa la condanna inflitta a Renat Kett per l'omicidio volontario della 73enne Daniele Claudine Chatelaine in una palazzina di via Oberdanna, Perugia, avvenuto lo scorso 27 maggio 2016. Giudicata con rito abbreviato, oggi pomeriggio è arrivata la sentenza e il PM Giuseppe Petrazzini, titolare delle indagini insieme ad Anna Maria Greco, aveva chiesto per la Kett trent'anni di reclusione mentre la difesa, l'esclusione della crudeltà dei futri motivi e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Perché Renat Kett uccise nel maggio 2016 la povera 73enne? Secondo la versione della Kett stessa le fu chiesto di allontanarsi dall'abitazione in cui viveva oramai da anni insieme alla donna e la figlia di lei. L'idea di finire in mezzo ad una strada e trovarsi senza famiglia le avrebbe fatto letteralmente perdere la testa. A seguito di un litigio l'avrebbe dunque spinta giù per le scale causandole accidentalmente la morte. Grazie.